Cannone laser pronto a sparare! Cannone laser fuoco! Finalmente! Papà è tornato! Oh, ormai non ci speravo più! Chi sarà quel verme con la tuta? Cavolo, non perdi tempo! Sì, ho le mani da scimmia e la presa da polipo! Allora, dov'è la camera da letto? È di qua! Oh, tesoro! Ehi, questo non è un motel! Ma di che ti impicci, cretino? Va a guardare la televisione! Sì, ha detto bene! Oh, Wojtek, sei sempre il migliore! Sì! Addio al mio primo appuntamento! Accidenti che non lo faccio! Ma e adesso che succede? Comenzato, accidenti! Ma guarda che roba! È incredibile! Ma sono scatenati! Non l'hai visto? Ma non è una bionda naturale! Guarda, guarda, guarda! Oh, mio Dio! È un vero, Paolo! Dammi una bina! È roba forte questa! Guarda, guarda! Guarda!